il pilota cercherà di finire la gara perché riservono i tre punti per la coppa di taglia di A5 e di conseguenza facciamo un po' di calcoli matematici ma va bene, abbiamo capito anche poi in bocca a lupo speciale per il challenge sappiamo che questo è il riparto grazie